Make up effettuato, manca solo il mascara, il mio preferito mascara a lunghezza. E visto che oggi si festeggia il Lush Day, il giorno delle ciglia, andrò con voi a finire il mio make up con questo mascara che io sto adorando tantissimo. Passo anche alla parte inferiore e guardate, guardate la differenza tra i due occhi. Veramente dà quel tocco in più. Poi adesso vi faccio vedere anche una combo che adoro tantissimo. Ecco qua, abbiamo terminato. E adesso vado di mascara metamorfose. Vado a infoltire un po' di più e a renderlo ancora più black il mio mascara. Veramente fa una differenza notevole. Ed ecco qui. Però vi raccomando sempre di curare bene le ciglia e soprattutto di struccarvi bene. Ecco qui. La mia combo perfetta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.